Amici amici, in mio opinione è molto difficile trovare un vino speciale in pari con il cioccolato ma oggi ti dico la migliore soluzione in Italia sto parlando di un vino speciale, Solaria Ionica 59-59 da Antonio Ferrari questo è un vino speciale da Puglia dalla regione di Torricella 100% primitivo con over maturazione se testate questo vino è incredibile perché il vino è così potente, così complesso con una nota speciale di valnutta in il cuore il vino è fantastico è così lungo è incredibile perché è 59 in mio opinione il miglior, miglior vino in un pari con il cioccolato è così lungo